Gentili telespettatori, buona giornata. La Meloni dice non ci siamo capiti proprio, non ci siamo capiti proprio. Anch'io ho caduto nell'equivoco. Quando la Meloni ha detto o la va o la spacca sul premierato, voi che cosa capite? O la va o la spacca. O vai premierato o arrivederci e grazie. Infatti la maggior parte dei giornali hanno detto quando la Meloni prima diceva che il premierato non era uno spartiacque, non era a Larenzi o passa o me ne vado, la Meloni aveva sempre detto così, poi improvvisamente in un'intervista tira fuori sta frase premierato o la va o la spacca e molti, compreso io, hanno interpretato che quel o la va o la spacca o la spacca significa me ne vado, andate tutti a quel paese. Voi e il vostro premierato. E invece la Meloni dice no no, se vuole ci siamo capiti male o meglio. C'è stato un grosso equivoco. Dice così la Meloni. Non mi fa paura l'idea del referendum sul premierato. Attenzione, il referendum sul premierato sarà obbligatorio. Allora nel video precedente abbiamo detto che questo non è un premierato, viene chiamato premierato ma non lo è. E' come i presidenti di regione che vengono chiamati governatori ma non governano. E' come il reddito di cittadinanza che non era un reddito di cittadinanza perché non veniva dato un reddito a tutti quelli che avevano la cittadinanza. Quindi in Italia c'è l'utilizzo di termini impropri, a uso e costume e a propaganda politica. Non si parla di premierato. E' l'elezione diretta del premier. Il premierato è quando il premier ha tutti i poteri, compresi quelli del Presidente della Repubblica, in capo a lui. Bene, allora torniamo. La Meloni dice non mi fa paura l'idea del referendum sul premierato, che non è un premierato, però lei dice premierato, come lo dicono tutti. Dice non mi fa paura il referendum sul premierato, non lo considero un referendum su di me. Allora perché referendum? Non si può far passare in Parlamento? Certo che si può far passare in Parlamento, ma essendo una modifica della Costituzione ha bisogno di una maggioranza qualificata, una maggioranza che non è il 50 più 1, il 51%, ma è due terzi del Parlamento. Due terzi del Parlamento cos'è? Il 66%, no? Il 66% deve votare sì a questa elezione diretta del capo del governo. Non ci sono i numeri, neanche se fossero d'accordo Renzi e Calenda. Non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri. quindi è matematico, telefonato come si dice, che si dovrà andare a fare il referendum. Il referendum di questo tipo non ha un quorum. Chi va, va. E quello che viene fuori, viene fuori. Solo che non andrà quasi nessuno. Bisogna vedere tra quei pochi che andranno, se saranno più quelli di sinistra che andranno in massa per far fallire questa cosa, che è molto probabile. E la Meloni dice, non mi fa paura il referendum. Non lo reputo un referendum su di me. Non è sul Presidente dell'Italia, ma sul futuro dell'Italia. Se la riforma non passa, vorrà dire che gli italiani non l'avranno condivisa. Ma da questo a dire se perdo il referendum mi dimetto, non ci siamo capiti. Io arrivo alla fine dei miei cinque anni e lì chiederò agli italiani di essere giudicata quando avrò finito il mio lavoro. Tutto il resto sono speranze della sinistra. Dice la Meloni, ospite su Rai3 nella trasmissione in mezz'ora. E penso, dice, che la richiesta di dialogo non vada rivolta a me. Oggi ho dimostrato di essere disponibile. Io partivo da una proposta di semipresidenzialismo alla francese, invece abbiamo fatto una riforma che senza stravolgere la Costituzione fa una cosa utile per chiunque. Consentire a chi governa questo paese di avere un mandato popolare e governare cinque anni. È un sistema del quale beneficiano gli italiani. E poi parla delle politiche comunitarie. Dice, chi farà parte della maggioranza lo decidono i cittadini. Io non sono disposta a fare maggioranza con la sinistra. Tutto il resto si vede. Con Ursula von der Leyen, come è normale che sia, c'è un rapporto di collaborazione istituzionale, come ce l'ho con chiunque. A me interessa solo portare a casa i risultati. Io cerco di avere relazioni normali e buoni rapporti. Dice la Meloni sempre nello stesso programma, ma dico sempre le stesse cose e probabilmente per questo vengo rispettata. Quindi dico sì e sì, quando dico no e no, dice la Meloni. Allora, a questo punto Meloni poi parla anche del buco di bilancio creato dalle perdite del super bonus. Dice, sulla carta il disastro è sui 220 miliardi di euro per aver ristrutturato il 4% delle case. In ogni caso questo governo farà del suo meglio. Concentreremo le risorse sulle cose importanti. E poi parla della questione delle riforme istituzionali, come vi dicevo prima. Sapete che il super bonus ha portato solo il super bonus, sono 160 miliardi di debito di buco. Poi ci sono gli altri bonus edilizi e si arriva a 220 miliardi. Poi c'è da sommare 16 miliardi di truffe. 236 miliardi tra bonus edilizi e truffe sui bonus edilizi. 236 miliardi. Una cifra decisamente spaventosa che diventa una grande parte del nostro PIL di un anno. Siamo riusciti a buttare via questi soldi e prima di questi soldi abbiamo buttato via i banchi a rotelle, abbiamo buttato via i bonus tipo, non so se vi ricordate il bonus monopattino. Quando con quel bonus monopattino abbiamo buttato via se non sbaglio quasi 250 milioni di euro. Impressionante. E poi altre centinaia di milioni di euro con i banchi a rotelle. Ma vi ricordate i soldi buttati con i banchi a rotelle? Mamma mia, povero paese, in mano a delle persone senza nessun tipo di esperienza. È già tanto che questo paese non sia fallito in questi anni. Avremmo fatto la fine dell'Argentina perché alla fine non siamo tanto diversi dall'Argentina. Poi in Argentina sono tutti discendenti italiani, gente che si è trasferita dall'Italia. Quindi non è che siamo tanto diversi dall'Argentina. Il DNA è lo stesso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.